Siamo tutti attenzionisti! La chiamata di oggi l'abbiamo intitolata a disertare la loro guerra, a sabotare la loro pace, pensiamo che il titolo sia molto esattivo, per quanto ammiriamo, per quanto ogni risposta ad ogni guerra sarà l'unica sensata a quella di disertare, noi abbiamo un ruolo molto preciso, qua dove la guerra guerreggiata non è ancora presente, il nostro ruolo è quello di sabotare la loro pace, sabotare il loro nazionalismo. Grazie.